Ci sono degli account Instagram che tu cominci a guardarli e dici oddio è bellissimo e voglia di followare subito invece il tuo vai dal tuo e dici ma il problema è che ci concentriamo sempre su ogni singola fotografia e mai sul feed in generale nel suo insieme non guardare il feed nell'insieme quindi non pensare in modo cohesive come dicono no aspetta perché spostando perché muovendoti ti taglio la testa allora vuoi capire se sei magari già in sta faiga per conto tuo è semplice abbiamo preparato un test con domande sui 9 punti dei nuovi capitoli che ti faranno capire punto per punto come sei messa per fare test è molto semplice basta iscriversi gratuitamente alla membership in sta faiga scaricare il test con il video che l'accompagna che ti spiega come fare e alla fine tiriamo le somme